4 giorni di dolcezze di gusto che hanno visto via Trieste e via Stendal prese d'assalto dai civita vecchiesi e non solo. Tentati dalle elettanti proposte dei maestri cioccolatieri provenienti da tutta Italia. Cioccolata caldo, getti dalle forme più svariate da poter gustare, barrette, praline di tutti i gusti, ciambelle fritte, dolci e torte, cannoli. Un tripudio di colori e dolci golosità da attirare adulti e bambini. Numerosi gli stand allestiti per l'occasione dalla Promevent a costo zero per l'amministrazione comunale. Dal mattino alla sera le due strade del centro sono state letteralmente invase da chi cercava di assaggiare piccoli capolavori in cioccolato e da chi, approfittando dell'epifania, ha riempito le calze di dolci prelibatezze. Un successo, ogni altra aspettativa, ha commentato soddisfatto l'assessore al commercio e turismo Alessandro Maruccio. Parla da sola l'affluenza registrata in questi giorni da parte di Civitavecchiesi e da parte di molti residenti dei comuni limitrofi, incuriositi dalla manifestazione. La qualità degli espositori è stata elevata, così come ampia è stata la risposta della città. L'organizzazione è stata buona, questo ci fa ben sperare e ci spinge ad andare avanti su questa strada. L'obiettivo dell'assessore Maruccio, infatti, è quello di ripetere la manifestazione anche il prossimo anno, magari coinvolgendo un maggior numero di artigiani del settore. Grazie. Grazie. Grazie.